Conosceva il suo aggressore, la 32enne prostituta rumena ferita, probabilmente a colpi d'accetta, a Volpiano, nel Turinese, zona che la donna frequentava abitualmente. Era tarda serata quando la giovane, dopo aver avuto un rapporto sessuale, è scappata dal cliente che l'aveva aggredita con inspiegabile ferocia. La donna, dopo essere stata colpita al volto e dalla testa con un coltello o forse addirittura con un accetta, è riuscita a divincolarsi, uscire dall'auto e scappare nelle campagne di Volpiano per evitare il peggio. La ragazza è stata vista vagare sanguinante da un pensionato del posto, che ha raccontato ai carabinieri di aver notato una donna ferita vagare nei campi in direzione dell'acquedotto comunale. I militari, dopo un'accurata ricerca, l'hanno rintracciata nelle campagne di Chivasso, alle porte di Torino. Era in stato confusionale e priva di qualsiasi documento di identità. L'ambulanza, sopraggiunta sul posto, l'ha trasportata all'ospedale di Chivasso, dove è stata ricoverata in seguito ai profondi tagli sulla fronte e sulla testa. Nonostante abbia riportato la frattura del cranio a causa di almeno quattro colpi che le sono stati sferrati, le sue condizioni non sarebbero gravi. Secondo il suo racconto, fatto ai carabinieri, l'uomo, un cliente abituale che la donna conosceva da almeno un anno, l'avrebbe contattata al cellulare. Una volta in auto, dopo aver consumato il rapporto sessuale, l'uomo l'avrebbe aggredita all'improvviso e senza un motivo specifico. Nella foga, per cercare di uscire dall'auto, la donna è scappata lasciando sul retro del veicolo tutti i suoi averi. I militari stanno indagando sull'accaduto e sono alla ricerca dell'aggressore.